le associazioni amici in carrozzina e il mosaico hanno organizzato presso la scuola bufalini di città di castello un incontro dal titolo l'umbria verso il peba l'esperienza del comune di padova quest'ultimo è stato infatti una sorta di ente capofila a livello nazionale nella progettazione e realizzazione del piano per l'abbattimento delle barriere architettoniche e l'umbria che ha avviato questo percorso virtuoso sta prendendo spunti da quanto fatto nel comune veneto a città di castello sono arrivati le vice sindaco andrea michalizzi e la progettista elena de toni che hanno illustrato la metodologia adottata attraverso strumenti open source e un nuovo algoritmo abbiamo utilizzato open street map che è una banca dati geografica non abbiamo inventato niente nel senso che abbiamo utilizzato i tag di questo strumento per individuare per esempio lo scalino l'attraversamento pedonale e la pendenza la rugosità di un marciapiede e sulla base di questi elementi che abbiamo inserito su questa banca dati aperta quindi tutti i dati che abbiamo inserito sono liberamente utilizzabili da tutti anche per altre applicazioni per esempio le applicazioni di routing dell'accessibilità e sulla base di questi dati abbiamo costruito un algoritmo quindi una serie di istruzioni per dire se quel percorso è accessibile non è accessibile o è limitatamente accessibile una specie di semaforo rosso giallo verde noi amici in carrozzina coordinati dal funambolico carlo reali siamo in contatto con questo percorso e abbiamo fatto in modo di creare un ponte di collegamento con l'amministrazione di città di castello la regione umbria con tutti i comuni che poi entreranno dentro questa filiera di buona prassi per l'eliminazione di barriere architettoniche non solo settembre sono stati dati i primi finanziamenti 150 mila euro dalla regione dell'umbria c'è stato il primo bando fatto dalla regione hanno già aderito più di 25 comuni 18 già sono stati finanziati tra questi c'è città di castello foligno spoleto perugia le città più grandi ecco grazie 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 grazie